Sembra un controsenso perché l'argomento di questo balletto era proprio il futuro, una delle prime puntate, forse la terza, la quarta. La terza, la terza, la terza, la terza. La terza. E sul più bello andiamo a parlare di qualcosa di più frivolo, del sesso naturalmente. E sul più bello andiamo. 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 Il valetto si svolgeva su due piani contemporaneamente. L'argomento era la medicina. E sul più bello andiamo. E sul più bello andiamo. Una bella canzone di Lucio Dalla per parlare di mamma. e sul più bello andiamo. 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 Per parlare di figli abbiamo scelto una madre e una figlia celebre, Judy Garland e Liza Minnelli. E sul più bello andiamo. 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 a Charlotte chiuso dentro una cassaforte, questo era per l'argomento il denaro. Per le mode, è stata anche questa una moda, il Boogie Woogie! Guardate che atmosfera sono riusciti a creare in questo studio per parlare di lavoro. Grazie per la visione! Uno square dance per parlare di pubblicità. Grazie!